Salve a tutti i Blazers e benvenuti in questo nuovo episodio della serie di sopravvivenza Oggi partiamo alla ricerca delle mangrovie ma soprattutto del nuovo bioma, la foresta di mangrovi Nello snapshot di ieri, il 22V14A, che ho subito installato nella mia serie, sono state aggiunte diverse cose Il loot esclusivo delle Deep Dark Cities, che noi avevamo appena esplorato e quindi me lo sono perso Dovremmo esplorarle di nuovo, cercarne alcune nuove Ma soprattutto il nuovo bioma delle foreste di mangrovie Il bioma dove finalmente sponeranno anche ai survival cose come le mangrovie, le propagule, il nuovo tipo di legno, di foglie, eccetera eccetera Quindi ragazzi, andiamo subito a trovare questo nuovo bioma Come ormai sta avvenendo molto spesso per trovare i nuovi chunk e quindi anche il nuovo bioma Ho resettato una porzione di mondo che non mi interessava e che si trova oltre all'oceano Esattamente oltre a quest'isola, che fu anch'essa un tempo resettata se ricordate Dove abbiamo trovato il primo rame, il primo geo di diametista Ma fatto sta che andando da questa parte si è generato altro oceano E andando verso nord invece, io ovviamente so dove sto andando perché ho già esplorato l'area ieri sera in live, come vi ho preannunciato Andando da questa parte arriva la terraferma e pare che io sia stato molto, ma molto fortunato Dato che tra i primissimi biomi che si generano, ecco qui una foresta di mangrovie Peraltro di fianco uno stranissimo fiume che per qualche motivo è diventato terraferma creando questo bioma vuoto dallo strano colore Ma ragazzi, di fronte a noi, come vedete, la foresta di mangrovie Con tutte le rane, che tra l'altro sono mescolate, un po' arancioni, un po' quelle bianche Non si sa bene perché E qui dentro un dedalo di radici e di alberi Questo nuovo bioma è davvero prezioso Sia a livello estetico, sia a livello di utilità Infatti è pieno zeppo di nuovi blocchi Tra le radici della mangrovia E guardatelo qui ragazzi Il legno rosso, bello nascosto Che figata, mamma mia Le nuove foglie, che peraltro hanno una texture molto particolare Che si potrebbe adattare per creare delle siepi, ho pensato E lì abbiamo anche le propagole Ovvero gli arboscelli di questa pianta Che crescono dalle foglie stesse Abbiamo, vabbè, le liane, ovviamente Un sacco di fango a terra E anche il blocco di radici mischiata al fango Come in questo caso Quindi un vero cocktail di nuovi blocchi davvero utilissimi E guardate qui c'è anche una petta Visto che in questo bioma sarà possibile trovare un sacco di alveari Ecco, è appena entrata l'ape Quindi visto che non si sa mai E che abbiamo Siltach Io direi di prenderci questo alveare Vediamo se entra Perfetto Ci prendiamo anche quest'altro Quindi andiamo a prendere un po' di alveari Che potrebbero sempre farci comodo prima o dopo Ma guardiamoci intorno meglio Questo bioma è sponato a cavallo Di una savana Una savana molto alta E infatti guardate come la mangrovia va a crescere anche su quest'altura È davvero molto particolare Ma la parte più bella si trova qua dietro Dove ne è sponata un'altra di foresta di mangrovie Quindi ne trovate addirittura due E questa foresta di mangrovie Oltre ad essere cresciuta un po' sulla savana E quindi un po' sulla montagna Va anche a confinare con una giungla E penso che questo sia uno degli accostamenti più carini di sempre a livello di biomi Perché ci stanno da dio l'uno di fianco all'altro E probabilmente sono anche due dei biomi più dettagliati dell'intero gioco Con la foresta di mangrovie che è assolutamente il più dettagliato Perché questi alberi sono tutti diversi tra loro Di varie altezze, con varie radici E creano per la prima volta un bioma Con una vegetazione fitta E tutta differente Cosa che non siamo abituati a vedere Tipo gli alberi di quercia sono pressoché tutti uguali O comunque hanno davvero poche tipologie Invece questi alberi qui sono tutti quanti diversi Andiamo a luttare quindi un albero di mangrovia Prendiamoci il suo legno E poi proviamo subito ad usarlo Ma prima direi di fare una piccola dormita E visto che siamo in zona Jackdrasil Perché non andare lì a riposare un attimo Ed eccoci qui al Jackdrasil La nostra base lontana Sull'albero gigante Che nonostante il passare degli anni Ha ancora il suo fascino Non so cosa ne pensiate voi Ma per me è così Tra l'altro ho missato l'ingresso Proprio come una volta Quindi mi sa che Andremo ad entrare da sotto E praticamente i nuovi cianche Che ho resettato Sono molto vicini Al Jackdrasil Sono oltre il deserto Che c'è di fronte l'albero Ed è subito sponata Una mangrovia Quindi ho avuto molta fortuna E direi di farci una bella dormita Nella camera da letto Tra gli alberi E tra i rami dell'albero In realtà E poi siamo pronti Ad andare a luttare La nostra mangrovia Dunque Per luttare come si deve La mangrovia Io mi cercherei Un bell'albero isolato Magari tra quelli più a confine Così da non fare casino Senza lasciare ceppi volanti Foglie che non cadono E cose di questo tipo Il problema è che Il bioma è molto denso Quindi trovare un albero solitario Non sarà per niente facile Ma guardate qui Questo sembrerebbe fare il caso nostro Quindi qui sotto C'è Credo una sola mangrovia Ma potrebbero essere due fuse insieme Che andiamo subito a prendere Ragazzi Da un solo albero Possiamo prendere un sacco di loot A partire dalle foglie Che sono tantissime su un albero solo Ne prenderemo diversi stack Se andiamo a prenderle tutte Peraltro vi faccio notare Un piccolo errore dello snapshot Noi qui abbiamo l'accetta con Siltach E come sapete Dovremmo essere in grado Di raccogliere le foglie Senza usare le cesoie Perché abbiamo Siltach Ma questo non funziona Solo per le foglie di mangrovia Questo non dovrebbe accadere Ed è al 99% Potremmo dire Un bug che verrà fixato Mentre qui abbiamo il tronco Della mangrovia Andiamo a raccogliere tutto Ovviamente non lasciamo Ceppi volanti Altrimenti Le foglie poi Non cadranno da sole Sarà un disastro Per le propagule Invece Spero che mi droppino In automatico Spaccando la foglia Perché altrimenti potrebbero Andare perse Ma in ogni caso Andrà persa molto presto La mia cesoia Che come vedete Non è riuscita A raccogliere tutte le foglie Quindi passiamo Ai tronchi Cerchiamo di spaccare tutto Guardate che bel colore rosso Che hanno Molti di voi Si chiederanno Se andrò ad utilizzare Questo colore nuovo Del legno Per rifare il castello Giappo Ecco Ho già Fatto un test E vi mostrerò I risultati Tra pochissimo Quando torneremo in base Ma prima Finiamo di raccogliere Tutta la nostra mangrovia E Forse Ho raccolto Tutto il legno No Quel cavolo Guardate qui Che ce n'è altro Ah ma questa è una quercia Ragazzi Ma si è fusa Con un albero Che non c'entrava niente Vabbè Poco male Allora Andiamo sotto E andiamo a spaccare Ovviamente Con l'accetta Anche i blocchi di radice Perché anche questi Meritano di essere Raccolti Ci mancherebbe altro E avevo visto Una propagola Che Mi ha droppato Perfetto Quindi abbiamo anche La piantina Anzi stanno droppando Delle piantine Quindi è perfetto Potremmo ripiantare La nostra mangrovia Peraltro questo è il primo albero In assoluto nel gioco Che oltre ad avere Tronco e foglie Ha anche qualcosa D'altro Nella sua struttura Di Molto importante Cioè le radici Che sono Più dei tronchi stessi Praticamente Ed è molto figo Che abbiamo aggiunto Una pianta finalmente Diversa dalle altre Per il resto Ragazzi Dovrei aver raccolto Tutto Spero che Possa Iniziare Ok Sembrerebbe che Stia droppando Da solo Quindi avrei Dovrei aver tolto Tutti i tronchi Quindi abbiamo La coscienza pulita Le radici Arrivano fino a Quest'altezza Mamma mia Quante sono E mentre Raccogliamo le ultime cose Vi faccio vedere Che questa Propagula Teoricamente Non penso sia Del tutto Matura Vediamo Infatti Se la spacchiamo Non droppa L'arboscello Perché Le propagule Hanno diversi Stadi di crescita E solo quando Ovviamente sono Alla loro Crescita massima Droppano Se stesse Diventando L'arboscello Che potremmo ripiantare Sia in acqua Sia nella terraferma Mentre da un albero solo Come vedete Abbiamo raccolto 3 stacche e mezzo Di foglie 48 blocchi di log E uno stacche Quasi e mezzo Di radici Quindi direi Niente male Queste piante di mangrovia Ed è il momento Di tornare in base Riportiamo Questi loot Che abbiamo preso Potremo piantare Noi stessi Le nostre mangrovie Farle crescere Farmarle Quando e dove vogliamo E soprattutto Finalmente Potremo utilizzare Il legno rosso Anche nelle build Non vedo l'ora Di implementarlo Anche se ancora Non ho idea Di dove metterlo Mi chiedo Se il legno rosso Possa stare bene In qualche modo Nel progetto Del villaggio Dove tra l'altro Stavo costruendo Una chiesetta Che è rimasta Molto work in progress Effettivamente Potrebbe non centrare Nulla A meno che non Mi metta a rifare Tutto il design Delle case Ma fatto sta Che questo nuovo Legno di mangrovia È una figata pazzesca Prima di tutto Ragazzi Abbiamo il tronco Che nasconde Questa parte rossa Il tronco Strippato È così Ed è già Probabilmente Una delle mie Texture preferite Questo rosso È una figata Pazzesca E penso si possa Abbinare Al rosso Delle smiting table Dobbiamo vedere Perché Probabilmente Si abbina Molto bene Sto parlando Del fondo Delle smiting table Poi ovviamente Abbiamo il plank Che è di questo colore E anche questo È molto bello E si abbina perfettamente Alla versione Scortecciata Cosa che Non è da dare scontata Visto che alcuni legni Non lo fanno E poi ragazzi Abbiamo La botola E La porta Di mangrovia Mi manca un blocco Però La porta di mangrovia È Molto Molto Interessante Perché È Abbastanza elegante Come porta Quindi la si potrebbe usare In diversi contesti Oltre alla solita porta Di dark oak Che ad esempio Viene usata Per Le build Moderne Il problema È che è rossa Quindi bisogna Abbinarla Con Il colore Della casa Mentre la botola Ha questo Oblò Che La rende Molto interessante Unica Però Difficile Da abbinare Al resto E tra poco Vi faccio vedere Un esempio E capirete Perfettamente Perché Anche se Ragazzi Avendo questo Oblò Ci potete Nascondere Dietro delle luci O addirittura Degli altri colori Per farli risaltare Meglio Tipo con il bianco Sta davvero Molto bene E voglio subito Fare questo test Con la smiting table Perché la smiting table È un blocco Molto unico E Che probabilmente Io non ho Nelle mie chest O non lo sto trovando Eccolo invece Perfetto Dicevo È un blocco Molto unico Perché Ha questa colorazione Con l'asse di legno Incorporata Che Non è nessun legno Del gioco E forse La mangrovia È quello Che più ci si avvicina Sembra tipo Una mangrovia Un po' più scura Ma soprattutto La smiting table Cosa che Non dovrebbe Essere il suo Scopo primario Però può essere Utilizzata Come blocco Da soffitto Perché la sua Parte inferiore Ha una texture Molto interessante Che è questa È unica E ha un colore Unico Cioè il bordò Che non viene utilizzato Quasi mai All'interno del gioco Quindi Anche in questo caso Potrebbe Abbinarsi bene Anche se l'asse di legno È decisamente Più chiara Però Direi di tenere d'occhio Questo abbinamento Detto questo La domanda finale Il castello Giappo Inizialmente L'avrei voluto Fare rosso Ma non avendo Il legno rosso L'ho costruito In acacia Principalmente Nelle parti inferiori Per poi andare Grazie signor Enderman Per poi andare Verso Altri colori di legno Più classici Nelle parti superiori Vale la pena Rifare L'intero castello Con la mangrovia Scopriamo Se la risposta È sì O la risposta È no Dunque Ho fatto un piccolo test Convertendo Il pilastro Di un portale tori Da acacia A mangrovia E questo È il risultato Eccoci qui ragazzi Come vedete A destra abbiamo Il pilone classico Di acacia E a sinistra Quello di mangrovia Ci sono dei pro E dei contro In questa scelta I pro Della acacia Sono Che L'ho già messa E quindi È già tutto impostato così Il castello È stato costruito Per abbinarsi Il colore Della acacia Inoltre Le sue botole Hanno questo effetto griglia Che secondo me È perfetto Per una costruzione Di questo tipo Il pro Della mangrovia È essenzialmente Il fatto Che è rossa Il rosso Era il colore Che avrei voluto utilizzare Per questo Ho usato La acacia Era la cosa Più prossima Al colore Che avevo in mente I contro Sono che La acacia Non è rossa Per la mangrovia Il fatto Che il suo rosso Non è un rosso Bello acceso Tipo la red concrete Che si adatterebbe Molto meglio Se avesse dei derivati Ma è un rosso Un po' pallido Un po' desaturato Perché altrimenti Non sarebbe legno È un po' tendente Al rosa In realtà E Diciamo che spegne Un po' I colori Del castello Che altrimenti Rimane molto più acceso E più vivace Il contro Però peggiore Penso sia La botola Che per quanto sia Super particolare Si adatta Davvero poco A un castello Del genere Mentre quella In acacia È praticamente Perfetta Avere degli oblò Spalmati in giro Non è forse Il massimo Ma fatemi sapere Voi che cosa Ne pensate Io sono abbastanza Indeciso Voglio sentire Anche la vostra E soprattutto Vorrei sapere Come utilizzereste Il legno Di mangrovia All'interno Sia della mia base Della mia serie Che Nei vostri mondi Fatemi sapere Giù nei commenti E detto questo Per questo video La scoperta Della mangrovia è tutto Ci vediamo domani Con un nuovo video Un saluto da Eren Ciao a tutti